il padel come non l'avete mai visto nel vero senso della parola un gross padel che vi farà entrare in una nuova dimensione di gioco ed ecco a voi i nostri protagonisti Demetrio Albertini Gianluigi Casiraghi Nicola Amoruso Max Giusti Paul Griffin e poi Niccolò Cotto, Simone Cremona e Danny Cattaneo Grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.